Una breve diretta giusto per commentare l'ultimo delirio che arriva dal fronte governativo. Sto cercando di mettere un po' in ordine la telecamera visto che ho la luce che spara. Questa cosa della Lamorgese è delirante. Io penso che abbiano superato il limite e sono curioso di ascoltare il messaggio del Capo dello Stato e nel caso poi faremo una diretta, vedremo un po'. Però quando mi ritrovo che il Ministro dell'Interno arriva a dire che controlleranno anche i social io mi auguro che almeno il nostro bagno sia preservato da occhi indiscreti perché a questo punto non abbiamo più un minimo di privacy. Ma neanche ai peggiori mafiosi stanno facendo quello che dichiarano di fare nel periodo di controllo del lockdown. Vi ricordate il primo periodo di controllo del lockdown dove c'era un signore che stava prendendo il sole in spiaggia c'era da solo, non c'era nessuno ed erano arrivati i droni, le macchinette della polizia. Cioè siamo veramente al delirio di onnipotenza di un prefetto. Stanno utilizzando un linguaggio e un gergo da KGB, da Gestapo. Evidentemente il cappotto di Napoleone, la corona del re che si sono automessi in testa li sta portando ad un delirio totale. Allora abbiamo un controllo delle strade che neanche accabulla. Abbiamo le minacce del ministro dell'interno che dice controllerò i social, le storie, i post, le foto in modo che tutto questo può diventare un argomento di ulteriore controllo sociale e quindi anche di possibilità di schedare le persone. Quindi abbiamo questa assurdità totale, questa violazione totale e non ci dobbiamo abituare. Qui sono minate le libertà fondamentali. Il ministro dell'interno sta dicendo una cosa che è vergognosa, pericolosa. Ma ripeto, ma neanche ai peggiori mafiosi vengono riservati i trattamenti riservati ai cittadini italiani. Ma stiamo scherzando? Ma come cazzo si permette di dire che controlleranno i social? Io mi sono rotto le scatole di questo controllo, di questo grande fratello, di questa dittatura soft, democratica, sostenuta dall'intelligenza di persone di centrosinistra, radical chic. Ieri sentivo Bonaga, il filosofo, il filosofo governativo. Sono diventati tutti governativi questi signori radical chic, che puzzano di radical chic. Ed ecco la Lamorgese che, oltre a schierare, faremo controlli. Ma cosa pensate? Che siamo tutti al capone? Ma cosa pensate veramente? Ma stiamo parlando di che cosa? Di che cosa? Ma di che cosa? Cosa vi siete messi in testa? Siete pericolosi! Questo governo è pericoloso perché si è messo in testa uno strano virus, quello della dittatura soft. Come parlano? Li senti? Li sentiamo come parlano? Non è che stiamo estrapolando discorsi. Io sono curioso di sentire questa sera il capo dello Stato, se sarà il capo dello Stato garante della Costituzione o ci sorbiremo il solito discorso dove trionferà la retorica. La solita retorica. Io non mi accoderò ai commenti di rito se non ascolto finalmente un discorso di un capo dello Stato garante della Costituzione italiana. Perché mi sono rotto le scatole di vedere una compressione dei diritti e anche degli spazi democratici. Quindi voglio sapere se il capo dello Stato questa sera sarà il garante della Costituzione italiana dopo che per un anno non ha detto nulla sui DPCM, non ha detto nulla sull'abbondanza dei voti di fiducia, non ha detto nulla sull'umiliazione del Parlamento. E questa è una Repubblica parlamentare e quindi io sono sicuro che questa sera il capo dello Stato farà lo shampoo al governo Conte perché sta abusando dei propri poteri, delle proprie funzioni. Io voglio stasera sentire, e mi auguro di sentirlo, un discorso di un capo dello Stato che è il capo dello Stato di una Repubblica parlamentare, che ha una Costituzione e questa Costituzione non prevede quella limitazione delle libertà come stanno facendo, che non prevede che un atto come il DPCM diventi il braccio armato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non è un Premier ma è soltanto un primus inter pares, non è una Repubblica presidenziale, non siamo in tutto questo bonapartismo sfrenato, è un primus inter pares, anche in una situazione come quella attuale che diventa emergenziale proprio per darsi dei poteri che non sono riconosciuti dalla Costituzione italiana. E allora voglio capire se stasera avremo un capo dello Stato che richiamerà il Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio dei poteri che la Costituzione prevede. E nella Costituzione non è prevista in alcun modo l'umiliazione non è prevista in alcun modo l'umiliazione del Parlamento e dei parlamentari. Qui fra un po' avremo veramente il delirio di onnipotenza da parte di chiunque. Persino un Arcuri diventa praticamente un uomo che ha poteri superiori rispetto a tutti gli altri. Ma stiamo scherzando. Ma dove c'è scritto che abbiamo le task force abbiamo i supercommissari abbiamo l'uomo della provvidenza ma stiamo veramente scherzando? Abbiamo un ministro dell'interno che si permette di trattare i cittadini italiani come se fossero dei criminali dei mafiosi dei narcotrafficanti dei trafficanti di uomini ma andate per piacere a prendere i delinquenti veri andate a prendere i criminali veri perché veramente ci siamo stufati delle limitazioni assurde cui siamo sottoposti. E anche in queste settimane ragazzi hanno fatto il pieno di limitazioni assurdi di limitazioni assurde assurde e non è possibile e non vi dovete abituare noi a gennaio dobbiamo cominciare a ripensare a riprenderci i nostri spazi democratici anche di libero dissenso su ogni cosa dal vaccino alle libertà ai dpcm e quant'altro. E quello che mi sta venendo in testa è di cominciare a organizzare un presidio permanente a Roma e lì vedremo se ci sarete oppure no. Mi metterò lì sarò da solo? Va bene sarò da solo. Mi metto lì io e altri amici di Talexit e vediamo quanti finalmente ne avranno le scatole piene. Cominceremo così. Ogni giorno vediamo se un po' più di gente arriverà. Vediamo vediamo intanto sono in attesa del discorso del capo dello Stato perché voglio capire se siamo ancora nell'equilibrio costituzionale nel rispetto della Costituzione. Voglio proprio capirlo voglio proprio stasera sono curioso e sono in ansia e in ascolto di quello che il capo dello Stato dirà. Va bene io ragazzi vi do un saluto perché stasera qualcosa avremo ancora da dirci. Ciao a tutti.